bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata questa è la rubrica per chi vuole sempre tenersi informato su investimenti finanza e mercati finanziari questa è buonanotte mercati ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati su io risparmio io sono pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto oggi come ogni lunedì ritorniamo con buonanotte mercati che vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa come sempre parliamo di mercati economia finanza e notizie importanti che possono avere avuto un impatto sui nostri investimenti ma anche sulla nostra vita sociale ne parliamo come sempre in maniera distaccata dando numeri e non sensazioni cominciamo tra le notizie più importanti della settimana la prima è che fitch ha dichiarato venerdì di aver ritirato i rating della russia per conformarsi alle sanzioni dell'unione europea dopo che l'agenzia di rating ha declassato appunto il paese russo a territorio di junk all'inizio di questo mese sanzioni aggressive contro la russia per l'invasione nei confronti dell'ucraina hanno preso di mira diverse banche ma anche diverse imprese della federazione russa paralizzando l'economia del paese provocando la caduta libera del rublo russo alcuni investitori ed esperti sono anche molto preoccupati che la russia possa precipitare in un default del debito poiché le sue istituzioni economiche devono comunque affrontare sanzioni senza precedenti all'inizio di questa settimana fitch ha anche affermato che avrebbe ritirato i rating su tutte le entità russe e le loro filiali entro il 15 di aprile la scadenza che è stata fissata appunto dall'unione europea in tutto ciò però è da segnalare la dichiarazione di gazprom sempre fatta sabato 26 marzo 2022 quando sto registrando questo video infatti il gigante energetico statale russo gazprom ha dichiarato che continuerà a fornire gas all'unione europea gas naturale attraverso l'ucraina in linea con le richieste dei consumatori europei la società ha anche affermato che le richieste si sono attestate intorno ai 109,5 milioni di metri cubi per il 26 marzo rispetto ai 105,1 milioni di metri cubi del giorno prima la seconda notizia riguarda il deficit della turchia che dovrebbe salire a 32 miliardi di dollari o al 4 per cento del pir quest'anno più del 2 e mezzo per cento precedentemente previsto ha affermato questo goldman sachs citando l'aumento dei prezzi delle materie prime dovuto alla guerra in ucraina e anche alla riduttanza di ancara ad aumentare i tassi la bilancia commerciale cronicamente negativa nella turchia dipendente dalle importazioni riceverà un po' di sollievo dagli stranieri compresi i russi che acquistano immobili o questo è quello che ha affermato comunque goldman sachs in ogni caso questi afflussi non riusciranno a finanziare il crescente disavanzo delle partite correnti e sia le riserve in valuta estera ufficiale sia la lira turca saranno sotto un'enorme pressione secondo quello che continua a fermare goldman sachs terza notizia il gruppo statale cinese sinopec ha sospeso i colloqui per un importante investimento petrolchimico e un'impresa di marketing del gas in russia hanno detto a reuters alcune fonti ascoltando un appello del governo alla cautela mentre le sanzioni aumentano nei confronti della russia per l'invasione all'ucraina la mossa della più grande raffineria di petrolio dell'asia di frenare un investimento potenzialmente da mezzo miliardo di dollari in un impianto chimico e gas e un'impresa di commercializzazione per il gas russo in cina evidenzia secondo questa fonte che parla con reuters i rischi anche per il più importante e più grande partner diplomatico della russia a fronte di alcuni rischi di una possibile onda di sanzioni occidentali anche nei confronti di pechino che ha ripetutamente espresso opposizione alle sanzioni insistendo sul fatto che manterrà comunque normali i propri scambi commerciali ed economici con la russia e si è rifiutata di condannare le azioni di mosca in ucraina o di definirle un'invasione ma detto ciò dietro le quinte il governo è diffidente e procede in modo molto più cauto di quello che dice nei confronti delle società cinesi che potrebbero scontrarsi poi con delle sanzioni occidentali andiamo a parlare di numeri che questa settimana segnano un ripristino nei trend positivi iniziati nelle settimane precedenti le notizie sono sempre altalenanti durante le settimane ma sembra che un trend positivo anche se molto blando abbia ripreso ad esistere anche se è sempre passibile di nuove notizie inaspettatamente negative. Unico indice negativo sul territorio americano è il Russell 2000 che si ferma ad un meno 0,53 per cento per cui neanche una strage mentre il migliore è il Nasdaq 100 che si ora di chiudere la settimana a un più 2 per cento anche il tanto amato S&P 500 non si vergogna assolutamente del Nasdaq e si ferma ad 1,79 per cento di segno positivo mentre il Dow Jones Industrial Average si attesta di poco al di sopra del più 0,3 per cento. Questa settimana l'indice RTSI russo ha riaperto i battenti chiudendo appunto questa settimana che si è appena conclusa ad un meno 11,45 per cento. Era attesa come performance negativa mentre meno attese erano le performance negative di altri paesi come l'indice Omex danese che chiude a un meno 4,47 per cento ed anche l'indice svedese che chiude a un meno 3,32 per cento. Anche tutti gli indici cinesi chiudono in territorio negativo magari per le notizie di possibili sanzioni tra il meno 2,1 per cento e il meno 1,53 per cento. Per quanto riguarda il territorio positivo questa settimana come quella precedente dona al Nikkei la corona dell'indice migliore con un più 4,93 per cento per quanto riguarda l'indice giapponese seguito dal TA35 israeliano con un più 3,85 per cento e il BOE SPA brasiliano con un più 3,27 per cento. Il nostro amato Fuzzimi BQ della settimana anch'esso con segno positivo attestando di un più 1,39 per cento. Per quanto invece riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense anche questa settimana ha offerto degli spunti molto interessanti anche se alcuni settori come la settimana precedente hanno dato delle perdite a doppia cifra ed in particolare mi riferisco al settore più rosso che viene guidato dal settore dell'infrastruttura americano che chiude questa settimana che si è appena conclusa con un meno 19,40 per cento. A seguire il settore del tabacco che perde questa settimana la metà dei ritorni della settimana precedente lasciando sul terreno un meno 9 per cento ma ricordo che la settimana precedente a questa aveva donato un bel più 31 per cento. Beni durevoli invece che perdono un meno 8,6 per cento. I settori a segno positivo sono guidati dall'energetico che va a rendere un 9 per cento positivo. Seguono poi oil and gas e settore automobilistico entrambi con un segno più 7,7 per cento. Anche il settore del mining dei metalli chiude una settimana in maniera molto positiva chiudendo con un più 7,6 per cento. Passiamo al mercato cripto che ad oggi sabato 26 marzo giorno in cui sto registrando questo video continua a fornire prestazioni positive continuando una scia iniziata la scorsa settimana anche se non ha doppia cifra per quanto mi riguarda questa settimana e in particolare mi riferisco al total crypto stock market inclusivo del bitcoin che chiude la settimana con un più 7,53 per cento. Se invece andiamo a parlare delle cripto ad alta capitalizzazione queste vanno alla grande con cardano che offre alla data di oggi sempre sabato 26 marzo 2022 un più 30 per cento seguita da solana a un più 12 per cento abbondante anche crodo non più 11,54 per cento ma in generale il segno positivo è presente e spalmato su tutte le coin e per quanto riguarda invece re e regina beh bitcoin ed ethereum viaggiano su rendimenti simili entrambi attorno a un più 6 per cento abbondante per cui anche questa settimana nel complesso aiuta e premia gli amanti di questa asset class le criptovalute. Bene eccoci arrivati anche alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati per la settimana che si è appena conclusa dove ci porterà il futuro i mercati di rendimenti? Beh con questa rubrica che non ha la palla di vetro cerchiamo di guardare il passato e cerchiamo di capire cosa ci vogliono dire i mercati per il presente per oggi e dove vogliono portarci nel futuro. Come sempre spero che questo contenuto sia stato apprezzato e di gradimento e se così fosse per favore lascia un bel pollice su ed un commento sia per l'algoritmo di youtube ma anche per me per farmi capire che ci sono inoltre se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Buonanotte mercati torna lunedì prossimo come ogni lunedì e invece noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao Ciao